Perché con il finire dell'estate, perché con l'arrivare dell'autunno e poi dell'inverno, guarda caso, aumentano anche alcune problematiche come influenze, problemi intestinali, febbre, problematiche, malattie virali, disturbi appunto del sistema immunitario, calo delle difese immunitarie, ne parliamo in questo video. Io sono Edoardo Colombo, preparatore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, divulgatore scientifico, giornalista scientifico, ma soprattutto sono l'autore del libro Vitamina D, l'Elisir per vivere in salute, l'unico libro di più di 350 pagine interamente dedicate alla vitamina D, ed è proprio di vitamina D e di alimentazione che andremo a parlare in questo video, correlandole con lo sviluppo di determinate patologie. Non è un mistero infatti che con il cambio di stagione, quindi con l'arrivo delle piogge più consistenti, con l'arrivo del buio anticipato rispetto ai mesi estivi di luglio-agosto, in concomitanza con appunto queste condizioni ambientali aumentino anche i casi di alcune problematiche, proprio come quelle che abbiamo riferito detto in apertura, quindi ovviamente nulla di particolarmente grave, però problematiche che vanno a inficiare con la tua vita, magari ti vanno a rovinare le feste, il periodo natalizio, magari ti vanno a tormentare un po' per tutto l'autunno e si protraggono anche per l'inverno. Queste problematiche tendenzialmente sono le prime febbri, sono l'influenza, sono il catarro, insomma, sono tutte quelle malattie virali, tutte quelle patologie che magari nel giro di poco tempo se ne vanno, ma sicuramente disturbano non poco la tua stagione. Perché? È veramente colpa del caso, è veramente colpa dei virus, ogni anno, insomma, è sempre un po' quella la storia, bisogna mettersi l'anima in pace e farsene una ragione, quindi riempirsi poi di antibiotici, che per carità, in caso di condizioni virali importanti, in caso di febbre, in caso di problematiche, vanno assolutamente assunti poi ovviamente sotto presidio medico, ma non c'è dell'altro. Oggi parliamo di vitamina D e di alimentazione, in particolare come la vitamina D sia decisiva nel campo delle condizioni autoimmuni. Nulla ovviamente di particolarmente grave in questo caso, ma proprio riferita alle influenze, riferita ai raffreddori, riferita al continuo catarro. Come puoi leggere nelle pagine del libro, che attualmente è andato in esaurimento, ma lo puoi trovare su Amazon, quindi con Amazon Prime, con la consegna garantita in un giorno, puoi trovare il libro Vitamina D, l'Isier per vivere in salute, che tra l'altro da qualche giorno a oggi è anche in lingua inglese. Quindi questo a testimonianza del successo del libro, che è una raccolta di analisi, di studi scientifici scritti con un linguaggio semplice, comprensibili a chiunque, ma allo stesso tempo preciso per divulgare i benefici della vitamina D. Partiamo subito però con l'analisi di alcuni concetti. Infatti devi sapere che la peculiarità straordinaria della vitamina D è quella per cui tale vitamina gode di ben 4500 recettori della vitamina D stessa, questi si chiamano i VDR, i vitamin D receptor, proprio sul sistema immunitario, ognuno dei quali possiede a propria volta una peculiare funzione. Quindi la vitamina D, il primo dato che devi estrapolare da questo video, andremo a dimostrarlo ovviamente con l'analisi di qualche studio scientifico in merito, è che possiede i propri recettori un po' su tutto il corpo, infatti la vitamina D in realtà è un potente ormone in grado di influenzare l'attività di tutti i tessuti dell'organismo, si fa prima addirittura dire quello che la vitamina D non fa rispetto a quello che la vitamina D fa perché veramente esplica una marea di funzioni. In particolare però i suoi recettori sono localizzati proprio lì, sul sistema immunitario, quello che in teoria ti dovrebbe difendere in inverno da varie problematiche. Quindi 4500 recettori sul sistema immunitario. Andiamo però ad analizzare la sua capacità, i suoi meccanismi protettivi. Perché? Perché essa va ad agire nello specifico sui linfociti T. Che cosa sono? I linfociti T sono una classe di globuli bianchi. Andiamo a vedere, andiamo a spiegare in maniera semplice che cosa accade. Quando queste cellule, ovvero i linfociti T, sono esposti agli agenti patogeni, i linfociti T stessi vanno a mettere in atto un meccanismo di segnalazione grazie al VDR, ovvero il vitamin D receptor, attraverso il quale poi vanno a operare al fine di prevenire la cascata immunitaria. Adesso andiamo a spiegare ancora meglio. La vitamina D poi, attraverso la sua potente azione di stimolazione e regolazione del sistema immunitario, oltre che per mezzo della stimolazione dei macrofagi, è in grado di sviluppare un'azione davvero straordinaria ed efficace contro i microbatteri, che sono poi quelli che vanno a convogliare influenze problematiche virali tipiche dell'inverno. Proprio come dimostra uno studio, ti dico il titolo, poi lo potrai trovare sulla pagina Facebook, sicuramente lo potrai trovare nel libro, il titolo in inglese dello studio ufficiale è Che cosa racconta? Che cosa spiega questo studio? La vitamina D, devi sapere che va a regolare l'equilibrio tra linfociti T helper di tipo 1 e quelli di tipo 2. Cosa vuol dire? I linfociti sono cellule che costituiscono la parte effettrice del sistema immunitario adattivo, in grado a loro volta di modificare e generare gli anticorpi che andranno poi a riconoscere gli antigeni. La vitamina D inoltre stimola i globuli bianchi a produrre una sostanza denominata K-telicidina, ovvero un peptide capace appunto di andare a modulare le reazioni del sistema immunitario in grado di regolare i batteri, quindi di avere un'azione antibatterica, quindi beneficiandone in generale nel sistema immunitario. Ora, abbiamo capito che più di 4.500 recettori sono proprio localizzati sul sistema immunitario e la vitamina D è in grado di essere sintetizzata. Inoltre la vitamina D ha anche una funzione autoclina, ovvero la cellula stessa, indipendentemente dal recettore, è in grado di utilizzare la vitamina D. C'è un dato poi, l'80% degli italiani è estremamente carente di vitamina D. Nonostante noi siamo descritti come il paese del sole, in realtà puoi ben capire come in inverno la produzione fisiologica di vitamina D che è pari a 10.000 unità internazionali al giorno, dalle 10.000 alle 20.000 unità. Quando ti esponi ad un sole perpendicolare, per esempio in spiaggia, quindi in costume scoperto, scoperta senza protezione solare, allora vai a produrre dalle 10.000 alle 20.000 unità di vitamina D al giorno di cole calciferolo, ovvero la vitamina D3, che poi attraverso delle azioni fisiologiche che andremo a descrivere in maniera più dettagliata in un altro video, si trasforma in calcitriolo, che è una mi vita molto breve, che è la forma appunto di vitamina D attiva. Quindi ovviamente durante tutto l'anno l'80% delle persone ha un livello intorno sotto, addirittura i 30 ng su ml di vitamina D. Devi sapere, come raccontato nel corso delle pagine del libro, che la vitamina D va ad agire come ormone, quindi influenzando, uscendo dal campo dello scheletro, dalle funzioni scheletriche. Infatti si dice proprio che la vitamina D esplica delle funzioni extrascheletriche. Per andare a lavorare in particolare sul sistema immunitario, quindi difenderti da influenze, da problematiche virali, quindi uscire dalle funzioni scheletriche, la vitamina D deve agire come ormone. Per agire come ormone deve essere superiore a quantomeno almeno a 50 ng su ml. Ora capisci che se l'80% della popolazione italiana ha un livello di vitamina D di 25 HD, che è il metabolita che devi andare a misurare per valutare appunto il tuo livello di vitamina D nel sangue, se l'80% delle persone ha un livello al di sotto dei 30, addirittura dei 20, bene, è normale come la carenza di vitamina D sia un problema a livello generale. Abbiamo detto però che le dosi, la produzione fisiologica di vitamina D durante l'esposizione al sole, quindi dai 10 ai 20 minuti di esposizione al sole, è dalle 10 alle 20.000 unità nell'arco appunto di una giornata, ma andiamo a vedere nel dettaglio uno studio scientifico portato avanti dal dottor Olic, che è senza dubbio uno dei massimi esperti al mondo di vitamina D, se non il più grande esperto al mondo di vitamina D, insieme ad altri medici ovviamente che fanno della vitamina D un'arma, una chiave potente per andare a migliorare la situazione delle persone, ovviamente nel rispetto, nel portare avanti le classiche terapie farmacologiche, l'alimentazione di cui andremo a parlare in video a parte, però questi dottori cercano appunto di divulgare l'importanza di questo potente ormone, la vitamina D. Devi sapere, andiamo a leggere proprio questo studio scientifico, ti posterò il link qui sotto, qui sopra lo puoi trovare appunto nel video, puoi trovare il titolo, lo puoi scrivere su Google, puoi andarlo a cercare in maniera autonoma, il titolo dello studio è Vitamin D for Health e Global Perspective, quindi è un'ampia analisi, ora andremo ad estrapolare i contenuti principali di questo studio, di questa ampia revisione relativamente alla vitamina D. Quello che ti volevo leggere, te lo vado subito a pescare direttamente. Allora, c'è proprio un capitolo dedicato, se andrai nel link dello studio, che appunto si chiama Safety and Intoxication, quindi va proprio ad analizzare effettivamente se è vero che la vitamina D in dosi fisiologiche potrebbe dare tossicità. Che cosa si intende per tossicità? Ovviamente la vitamina D, oltre alla mineralizzazione dell'osso, funge all'assorbimento del calcio a livello intestinale, quindi alza i livelli di calcio e quindi si è soliti dire come essa possa favorire il rischio di calcolosi a livello renale. Bene, devi sapere che questo è ampiamente dimostrato, non esistono praticamente casi in letteratura, ti sfido a trovarli, a postarli qui. Te lo leggo in inglese. Vitamin D intoxication is characterized by ipercalcemia and ipercalciuria. Serum 25 HD level, quindi i livelli di vitamina D are usually elevated a un livello più alto di 150 NGML in individui con l'intossicazione, quindi coloro che hanno intossicazione hanno un livello di vitamina D sicuramente superiore ai 150 NGML, ma una piccolissima parte e vedremo in video specifici come non è la vitamina D stessa a causare il problema della calcolosi renale, ma è l'alimentazione, è un'alimentazione che va a far produrre quantità di calcio troppo elevate, in particolare per smaltire le scorie acide, ma lo vedremo in un video a parte. Andiamo avanti con lo studio. Daily doses of vitamin D3 up to 10.000 international units were safe in healthy males and there was no evidence of ipercalcemia and ipercalciuria. Quindi, dosi di vitamina D intorno fino a 10.000 unità, appunto che la dose consigliata, che consigliamo attraverso la produzione, la redazione del libro Vitamina D, Elisir per vivere in salute, di 10.000 unità è l'ideale, è l'ideale per portare avanti un'integrazione, sicuramente portare la vitamina D a un livello più alto di 50, quindi farla agire come ormone. Attenzione, abbiamo parlato di 10.000 unità, ma andiamo avanti. This amount is far above the tolerable upper level indicated in the EOM guidelines. 4.000 unità. Cosa vuol dire? è molto, molto lontano, superiore rispetto alle 4.000 unità che raccomandano le linee guida internazionali, perché devi sapere che le linee guida internazionali delle società di endocrinologia non per forza sono al passo, non per forza vanno a divulgare la totalità degli studi scientifici. Quindi, dosi più alte di vitamina D, addirittura c'è scritto nello studio fino a 40.000 unità al giorno, sono ancora in un regime di totale sicurezza e 200 ng ml non è assolutamente in eccesso. Ovvio che poi per il consiglio è quello di non andare oltre le 10.000 unità. Oltre le 10.000 unità ovviamente deve essere il tuo medico a prescrivertelo attraverso magari protocolli particolari di integrazione di vitamina D, ma sicuramente un'integrazione dalle 5.000 alle 10.000 unità nei mesi invernali è l'ideale per portare la tua vitamina D a un livello superiore ai 50, meglio se intorno all'80-80 ng su ml. Questo è il valore in grado di far sì che la vitamina D possa agire nella maniera migliore, soprattutto nell'ambito se sei uno sportivo che vai a depletare la vitamina D in maniera più veloce, se hai condizioni come ostuporosi, se ti ammali spesso, quindi portare la vitamina D intorno agli 80 ng ml con dosi di 10.000 unità è l'ideale. Poi potrai fare anche dosi di mantenimento, quindi dosi più basse di vitamina D, monitorare sempre con l'esame del sangue per vedere il tuo livello, magari ci sono persone che la sintetizzano più velocemente, ma allo stesso tempo come riducono l'integrazione la vitamina D scende. Bene, da questo studio, Vitamina D for Health Global Perspective, realizzato al Boston University Medical Center, quindi assolutamente uno studio ufficiale pubblicato in letteratura medica dal dottor Oli che da altri ricercatori e medici di fama internazionale, dimostra come addirittura dosi superiori alle 10.000 unità sono sicure, ma non ti devi esporre oltre alle 10.000 unità, quindi rimani su dalle 5.000 alle 10.000 unità di vitamina D, in Italia il limite è stato portato ora intorno alle 1.000 unità al giorno a livello ministeriale, ma siamo ben lontani insomma dall'integrazione consigliata. Per maggiori informazioni, appunto per sapere tutto sulla vitamina D, puoi leggere il libro Vitamina D l'Elysia per Vivere in Salute, in cui in 350 pagine troverai di tutto. Noi della redazione della produzione del libro abbiamo pensato di produrre anche insieme a ricercatori, a esperti di nutraceutica con esperienza ventennale, anche un integratore, un prodotto che ti possa con facilità far arrivare a una dose dalle 5.000 alle 10.000 unità al giorno. Questo prodotto è Elisir D, Elisir D ha 500 unità di vitamina D3 per singola goccia, nell'intero flacone di Elisir D ci sono ben 300.000 unità, quindi fai te i conti. Per arrivare a 10.000 bastano 20 gocce e 300.000 unità anche se tu la prendessi, Elisir D, la vitamina D3 di Elisir D, ovvero il colecalciferol, la forma migliore, più biodisponibile per l'organismo umano, 10.000 unità tutti i giorni, con 300.000 unità ai sei coperto integralmente per tutto il mese. Attenzione, molte vitamine D sono commercializzate in oli raffinati, mentre l'olio di Elisir D è olio extravergine di oliva biologico. Quindi, perché? Perché la vitamina D è liposolubile, si scioglie e viene assorbita e veicolata meglio dai grassi. Bene, quale grasso migliore dell'olio extravergine di oliva? Inoltre, la vitamina D di Elisir D è un prodotto notificato dal Ministero della Salute Italiana. Abbiamo inserito anche della curcuma, che è un prezioso antiossidante, una spezia antiossidante, che va a lavorare in sinergia con la vitamina D, motivo per cui questa vitamina D, diciamo, ha delle caratteristiche, delle caratteristiche assolutamente importanti, rispetto che ti possano portare enormi benefici per la tua salute. Ovviamente, il tutto nell'ambito di un'alimentazione sana, un'alimentazione naturale che non va ad alzare eccessivamente, che non va ad alzare i livelli di calcio, quindi un'alimentazione basata su carne, pesce, frutta, uova e verdura, quindi alimenti che la natura ha messo a disposizione. Nella carne, nelle verdure a foglia verde, potrai trovare anche la vitamina K2, che permette un miglior assorbimento della vitamina D. Fino a 10.000 unità, comunque sei tranquillo, puoi tranquillamente assumere soltanto vitamina D e avere un'alimentazione equilibrata, quindi carne, pesce, frutta, verdura, uova, che ti permettono appunto di produrre la giusta quantità di vitamina K2 e degli altri cofattori della vitamina D. Elisir D lo puoi trovare nei nostri store online, tra l'altro Elisir D viene consegnato a casa tua in un solo giorno, la spedizione è gratuita ed avviene in un solo giorno, quindi in altri video poi andremo a parlare più specificatamente di altri temi legati alla vitamina D e legati alla sua integrazione e all'alimentazione. Il dato importante è che più dell'80% delle persone in Italia sono estremamente carenti di vitamina D e guarda caso poi queste persone, dimostrato come potrai leggere nel libro, hanno una maggior predisposizione ad essere colpiti dalle classiche malattie virali tipiche dell'inverno. Per questo video è tutto, ci rivediamo con l'analisi di altri studi scientifici, interviste e divulgazione proprio in materia appunto di vitamina D ed è la corretta alimentazione per vivere in salute, quindi non mancare assolutamente nei prossimi video. Ciao!